ciao ragazzi continuiamo il nostro percorso tecnico mi raccomando iscrivetevi al mio canale per avere la notifica dei video che pubblicherò nei prossimi giorni adesso andiamo a vedere una gestualità che vi può servire sempre per attivazione e sempre come propedeutica per per la per la ronaldo quindi per la forbice ronaldo state attenti ragazzi ve lo mostro in uno slalom ok quindi andiamo a fare uno slalom all'interno per poi metterci una una forbice ronaldo attenti è sempre un'esercitazione che potete usare sia per un attivazione che per fare una finta una skill per andare via l'avversario e superarlo con con una finta in velocità ciao a tutti ragazzi mi raccomando commentate iscrivetevi ciao a tutti